buongiorno fratelli nerazzurri e nonna buon lunedì buon lunedì a tutti ragazzi è un bel lunedì un bel inizio settimana perché perché la nostra inter ieri ha vinto seppur soffrendo però andremo a vedere fino a che punto ha sofferto andremo a vedere quello che è funzionato e quello che invece non è andato per il meglio anche se il risultato è stato positivo con chi lo facciamo? lo facciamo con un mio amico un competente un tecnico vero e proprio un allenatore un allenatore che allena in inghilterra allena le giovanili e è un piacere per me averlo sul mio canale per condividere insieme a voi le sue competenze tecniche e cercare di capire meglio come è andata la partita di ieri sotto il punto di vista prettamente tattico quindi io vi lascio in compagnia di Mauri il mister e vi invito ad andare a vederlo sul suo canale perché fa delle analisi tattiche in una maniera molto ma molto competente guardando il calcio sotto il punto di vista dell'allenatore e non del tifoso perché non è tifoso di calcio ragazzi buona visione e di Milano è simbolo regale il biscione dell'internazionale scrivete qua sotto cosa ne pensate e iscrivetevi al canale di Mauri il mister ciao ragazzi buona visione vi lascio Mauri il mister un saluto a te e a tutti i tuoi fans di youtube che seguono il tuo bellissimo canale mi hai chiesto di fare un'analisi tattica ho preparato delle schermate le ho divise tra il primo tempo e nel secondo tempo chiaramente ho cercato di vedere quello che altre persone non vedono perché sono prese dalla partita e quindi andiamo a vedere insieme quello che io ho analizzato e ti ringrazio per l'opportunità ricordo solamente alle persone che non mi conoscono che io sono un allenatore UFA pro e vivo e lavoro e alleno in Inghilterra a Londra vediamo insieme questa vittoria diciamo sofferta sì fino a certo punto però andiamo a vedere nel dettaglio quali sono state le difficoltà e le non difficoltà che ha trovato l'Inter nel primo tempo e nel secondo tempo qui vediamo chiaramente quello che abbiamo descritto nella lavagna dove il centrocampo si chiude e forma quasi un rombo che lo vedete bene l'ho evidenziato e guardate le marcature dei due giocatori dell'Inter le due punte segnate in blu marcate a uomo ma distanziate l'uno dall'altro quasi in linea e proprio Torino cerca di allargare il gioco sugli esterni che diventerà l'arma più importante ma si sfrutterà solo la fascia destra però possiamo vedere anche dopo con la prossima immagine come Kimi ben chiuso perché il lavoro che fa Mandragola e Baselli è quello di chiudere e mentre Lucchi si accentra si vede bene anche qua l'Inter fa il pressing quando il Torino ha la palla ma lo fa in maniera un po' disordinato non organizzato però ruba palla subito ma quando ruba palla guardate il vuoto che c'è proprio si vede la mancanza di un giocatore come Sensi come può essere Eriksen perché in questo caso qui il giocatore che ha la palla non è Brozovic ma è Gagliardini e non sa cosa fare del pallone perché lui è più uno che si inserisce e proprio perché i giocatori tipo Gagliardini e per quanto riguarda l'Inter e Skrini sono lasciati sempre liberi nell'impostare perché il Torino decide di lasciare liberi diciamo quelli dai piedi meno buono chiamiamolo così però allo stesso tempo il Torino quando attacca è guardate la posizione dell'Azzurro come è messo male a Kimi che fa una partita difensiva sbagliata perché in quella posizione che adesso la slide è già passata si vede che lui sta a largo e non copre il buco in mezzo e il Torino lì qualche volta è riuscito quantomeno prende su una punizione che dopo è arrivato il palo clamoroso qui si vede ancora bene l'intenzione di Nicola come fare il rumbo a centrocampo lo vedete come chiudono e guardate pur tenendo la difesa alta come Brenne e Bianco stanno sempre vicino le due punte e qui è chiaro più lampante di così Sergio per quanto riguarda anche i tuoi spettatori guardate il rombo e il triangolo che fa il Torino lo fa in maniera sistematica sempre mantenendo la posizione equa l'uno con l'altro cioè il Torino si è difeso in maniera statica ma con giocatori dei piedi buoni e per cui per l'Inter è stata sempre difficile guardate il buco che c'è in mezzo non c'è un interista in mezzo è facile dirlo qua nella lavagna però al primo tempo diciamo che è filato con questo tema tattico e il secondo tema è che quando il Torino alzava per evitare il lancio occupava bene il centrocampo e guardate l'ho evidenziato nel segno blu che si vede chiaramente nella fotografia invece Sergio nel secondo tempo come vedi e come possono vedere i tuoi spettatori la partita parte sempre bloccata guardate i due cerchi blu che vi ho fatti vedere e i rombi diventano sempre più ampi perché l'Inter viene spostato sempre più a destra dalla parte di Hakimi come è stato nel primo tempo e non avrà mai spazio per entrare dentro e proprio quel vuoto lì dove deve essere imbucato e come viene imbucato prima mettendo Ericsson che di prima fa questo passaggio ma guardate la linea gialla di Lautaro lui sa già che arriva la palla e fa quel contro movimento ed sarà importante perché dopo nel secondo gol lo farà ancora e qui è l'intelligenza dei giocatori per sbloccare una partita dove tatticamente Nicola ha messo delle figure che io ho cercato di disegnare qui ma che sono state preparate in un allenamento chiaramente Lukaku non sbaglia il rigore però ripeto il cambio tattico di togliere un centrocampista in questo caso Gagliardini che non è tecnico uno tecnico ha velocizzato però nello stesso tempo Hakimi è sempre stato in difficoltà e la contromossa di Nicola è stata da mettere un'altra punta è andato a fare pressing su Hakimi che sbaglia qui sbaglierà perché Ansaldi gli fa pressing e da lì nasce il gol del Torino infatti se nella sinistra è mancato diciamo un po' di qualità da parte di Perisic e Young però comunque non ci sono state situazioni, le situazioni sono state molte sulla destra e vedete i triangoli che vi dicevo io no? E a quel punto, quel pareggio, quel triangolo lì sulla destra mancava un uomo che saltasse l'uomo perché comunque Eriksen giocando a sinistra doveva aspettare che gli arrivava il pallone e vedete Brozovic con la palla non sa cosa fare. L'altro cambio tattico quindi è stato quello di togliere Brozovic, mettere Eriksen centrale e di mettere negli ultimi minuti un trequartista, un vero trequartista che salta l'uomo che ti sbanca la partita e già qui prima del gol guardate l'inserimento 1-2, sto parlando chiaramente del Nino Meraviglia che fa questa azione velocità, ripeto secondo tempo Lautaro davanti ha fatto tanto, molto, molto e gli esterni vedete sono liberi ma sono sempre bloccati fino a che sempre Lautaro fa questo contromossa e Nino Meraviglia guardate è libero da marcatura, fa un cross perfetto e avviene il gol della vittoria, quindi la partita alla fine è stata vinta dai giocatori dai piedi buoni.